grazie per essere qui davvero so che siamo tutti stanchi due quattro giorni di code motion tante cose quindi grazie per per essere venuti alla mia ultima a quest'ultima presentazione mi chiamo fabio sono mi occupo di sviluppo front end agile coaching lo faccio in queste due realtà una si occupa di design di interfaccia in romagna la stessa in romagna si occupa di con formazione consulenza agile il mio can twitter e fabrucci se avete delle domande che volete pormi in un altro momento oppure questa è l'occasione buona quello di cui vorrei parlare oggi è che cos'è e perché si usano a living style guide quali sono i diversi workflow possibili per svilupparne una e quando ha senso investire per farne una alcune domande su di voi innanzitutto chi lavora in un'agenzia di servizi ok chi lavora in un'azienda che ha il proprio prodotto ok chi chi fa css ok c'è qualche designer in questa tra di voi ok qualche sviluppatore manager consulente imprenditore unicorno sì allora il in questa slide in questa presentazione non c'è una riga di codice quindi non vi preoccupate oppure mi dispiace se cercavate di vedere del codice vi voglio portare la mia esperienza che da due anni lavoro sulle living style guide e giusto perché ci sto lavorando e le sto studiando vorrei condividere con voi il mio percorso vorrei farlo attraverso tre metafore tre piccole storie vi presento nodi nodi è un nodo html può essere un forum di login può essere un banner promozionale è un nodo disegnato e progettato per essere messo in questo punto e per fare una specifica funzione a un certo punto un requisito il movimento agile il cattivo della storia richiede che il nodo venga spostato da un'altra parte e quello che succede che cambia il modo in cui viene rappresentato è quello che dobbiamo fare molto spesso quando arriva a questi tipi di situazioni per chi fa più front end principalmente e dover ricreare tutti quei div che lo lo contenevano perché era stato progettato in modo tale che la cascata gli desse quello stile qui dobbiamo ricostruire tutti quei divintorno oppure dobbiamo andare a ridefinire il css in modo tale che non consideri solo la left side bar ma anche la right side bar il punto è che ogni giorno piccoli nodi soffrono di questo problema di crisi di identità perché si spostano e noi dobbiamo intervenire per sistemarli poi c'è un team un team di sviluppo e di design parliamo di un team cross funzionale che fa grandi cose progetta e cose bellissime solo che a un certo punto arriva questo diavoletto malvagio che il cambiamento no cioè dovremmo aggiungere una funzione dovremmo cambiare il menu dobbiamo aprirci un nuovo mercato che il kindle dobbiamo fare questi cambiamenti e il progetto arriva quasi sempre o almeno io ci sono mi sono trovato molto spesso in quel punto dove arriva la fatidica domande frase forse meglio se lo rifacciamo da zero vi siete mai trovati in questa situazione non sono l'unico avere questa cicatrice questa cosa succede costantemente e a volte lo scotto lo paga il team a volte lo scotto lo paga il cliente qualcuno lo scotto lo paga la terza storia è quella di un cliente nidi ho evitato la versione cravattara perché troppo l'house of cards sebbene mi piace l'house of cards secondo me non rappresenta il messaggio che vorrei portarvi questo nidi ha un bisogno gli serve un prodotto i motivi possono essere diversi dal dalla necessità alla vanità non mi interessa ma lui ha un bisogno quello che ha però è anche delle paure delle incertezze perché magari può avere paura perché il successo di quel prodotto dipende se lui sarà in grado di far riuscire quel prodotto la sua sopravvivenza il suo stipendio il suo stare in quell'azienda dipende se noi come fornitori riusciremo a fare un prodotto fatto bene ha dei dubbi delle incertezze perché non sa bene che cosa vuole ma il suo ceo gli ha detto dobbiamo vendere sul mobile perché il mobile sta andando un casino quest'anno quello che non vuole di solito sono i rischi cioè non vuole vorrebbe il più possibile cercare di essere tranquillo nelle decisioni che prende e sicuramente non vuole essere triste c'è una categoria di persone che è felice di essere triste ma non è oggetto di questo talk è più oggetto di terapia il quello che fa è cercare un team che possa soddisfare il proprio bisogno di avere un prodotto e arrivare ad un certo livello di agreement sul dire ok sì ho scelto te questo agreement può partire da siamo collaboratori per il successo del prodotto cioè per farlo bene che sia quello che serve a siamo competitor cioè è importante che se io sappia co se qualcosa va male a chi devo fare il c mi sono trovato in entrambi i tipi di contratto cioè quello dove è chiaro che tutto progettato al fallimento quindi la fase di negoziazione fatta in modo che se qualcosa va male si sappia di chi è la colpa a non facciamo nessun contratto deve essere qualcosa che funzioni vi suonano queste cose vedo delle facce quello che fa il team è produrre tre tipi di alla fine del proprio percorso produrre tre tipi di cose qualcosa che non è proprio quello che voleva all'inizio e non è molto contento il nostro cliente qualcosa che è esattamente quello che si immaginava io io commissiono un'azienda dico voglio questo ecco che me lo produce io sono felice qualcosa che è diverso ma che in qualche modo funziona e così così questo può rendermi felice oppure così così ogni giorno un cliente resta insoddisfatto del proprio fornitore e ognuno di noi in qualche modo è stato la cicatrice di un cliente la salvezza di un altro cioè in qualche modo ce li stiamo passando se vogliamo dire com'è che noi professionisti o come il css questo è un talk che ho fatto il css day ed è già cambiato rispetto a ieri perché delle domande del feedback mi hanno aiutato a modificarlo com'è che possiamo aiutarlo un po di contesto vi chiedo di andare un attimo per quattro minuti un attimo in profondità sul mi serve spiegarvi delle cose il primo approccio che ho visto che io stesso ho usato sia come dipendente che come imprenditore alla gestione del rischio è stato quello che chiamiamo waterfall cioè una fase dove all'inizio cerchiamo di incastrare tutte le incertezze le paure rischi e cerchiamo di anticipare il più possibile dopodiché c'è quella che chiamiamo esecuzione ok si si fanno del design e si fa dello sviluppo questo è il modo più semplicistico con cui si pensa che un cliente arrivi da una situazione di a renderlo felice cioè ho fatto quello che ho mai chiesto cosa succede che però questo tipo di pianificazione porta a generare degli artefatti che sono molto focalizzati sul blaming cioè analisi requisiti design interfacce sviluppo codice qualcosa viene fuori mette nella condizione il nostro cliente di dire di chi è la colpa e se non so se avete se fate sviluppo di solito che si trova nella in fondo la cascata è quello che deve essere in grado di giustificare perché non si riesce a fare un certo tipo di design perché non avete fatto questo perché non avete fatto quest'altro e o bisogna essere molto bravi a giustificare la cosa o in qualche modo si può anche rischiare di corrompere la relazione prima perché io ho fatto quello che c'era scritto se non funziona è colpa di chi ha fatto l'interfaccia se non funziona è colpa di chi ha fatto i requisiti ma quello dei requisiti dirà è colpa di chi l'ha sviluppato male questo è un ecosistema progettato molto facilmente per trovare chi è il colpevole ed è soprattutto interessante perché la pianificazione è un modello di rappresentazione della realtà idealistico che parte da ok dovrebbe essere così e ci facciamo i nostri gant la nostra proiezione e ci generiamo un'idea un imprinting iniziale del prodotto l'execution che è la parte in cui design e sviluppo ma anche alcuni rami della business analysis lavorano partono dal basso verso l'alto cioè da quello che è fattibile a quello che può essere attendere la sovrapposizione di questi due insieme dove i progetti riescono a funzionare c'è una stima non mi ricordo di chi vi chiedo scusa per una vera referenza ma che dice che circa l'ottanta per cento dei progetti fallisce perché non sono in time non sono in budget ma soprattutto non sono nell'aspettativa iniziale del nostro cliente arriva questa cosa bellissima va di moda l'agile cicli brevi andiamo a fare andiamo a capire più velocemente se stiamo facendo bene se stiamo sbagliando si focalizzano su fare quello che ha veramente senso e il planning che viene fatto diventa meno a milestone ma più su obiettivi principalmente dove l'obiettivo è dove un obiettivo non è non fare errori quello che un effetto collaterale è stato però che tutta la fase che permetteva al nostro cliente di tranquillizzarsi perché in qualche modo qualche analista gli diceva non ti preoccupare in un mese di design un mese di sviluppo riusciamo a fare quello che tu vuoi veni adesso viene drasticamente accorciato perché si prediligia a fare piccoli cicli di validazione ma dal punto di vista del cliente che può essere anche un nostro titolare sopra di noi non è necessariamente una figura esterna questa è un modo per aumentare i rischi per aumentare le paure per aumentare le incertezze ha anche dei risvolti positivi ma il punto emotivo in cui lo spostiamo con questo tipo di approccio è più difficile perché arrivo a questo punto perché il design da questo punto di vista è diventato estremamente cruciale per due per quattro motivi secondo me il primo se l'analisi non ha più lo scopo di garantire le sicurezze le tranquillità al management o a quelli che devono prendere le decisioni il design è diventato il punto in cui trasformiamo in esplicito l'implicito è diventato dove per design non intendo dire un grafico creativo che decide tra il rosso e il blu per design intendo dire un momento in cui vedo le cose e può essere sicuramente un lavoro di collaborazione è necessariamente un lavoro di collaborazione tra delle figure cross funzionali però è un punto dove inizio a vedere le cose e dove inizio a dire sì era quello che intendevo ma lo vorrei non a sinistra a destra lo vorrei più così mi aspettavo questo è il punto dove l'implicito diventa esplicito e dove se se io dico la parola cane ognuno di voi sta pensando ad una razza diversa in questo momento c'è chi pensa un chihuahua un san bernardo e se io vi compro una una cuccia per un san bernardo e voi avete un chihuahua tanto tanto ma se la compro per un chihuahua e voi volevate un san bernardo abbiamo un piccolo problema il design offre reality check perché è molto più dal basso verso l'alto e abilita l'ownership distribuita perché non ci sono più scelte non ci sono più solo scelte strategiche dovute all'analisi ma ci sono scelte tattiche cioè dobbiamo decidere sto login come farlo facciamo login facebook o login google questo significa che bisogna prendere decisioni nel campo di battaglia è come se fossimo in guerra e abbiamo dato la strategia di conquistare uno stato ma vanno prese delle scelte tattiche sul campo di battaglia e questo aumenta la ownership o quantomeno il bisogno di decisioni tattiche il design è diventato quindi a due funzioni oltre alla execution che era quella di progettare interfacce diventato anche un modo per fare discovery discovery degli impliciti delle persone che ci chiedono delle cose discovery di quello che deve essere progettato e dico questo perché il modo in cui noi facciamo css nel mio caso ma anche prototipazione cambia drasticamente perché se dobbiamo fare discovery quello che succede è diverso da quello che dobbiamo fare se dobbiamo fare execution perché adesso entrano le living style guide le living style guide sono estremamente efficaci in fase di discovery perché ci abilitano la prototipazione ad alto livello nel nel tono del brand del cliente cioè avete mai usato bootstrap o foundation bellissimo se usiamo bootstrap per ottenere dal nostro cliente delle informazioni tipo la intendevi così l'elenco degli ordini va benissimo è estremamente efficace ma non è calato nel suo tono visivo cioè i colori la tipografia e che sia un cliente sia un macellaio sia un altra cosa bootstrap va benissimo la style guide ci permette di abilitare la prototipazione rapida a basso costo perché vado a prendere componenti di quel brand e li vado a usare per dire ascolta la forma di registrazione la intendevi così e mi costa poco nel caso dell'execution invece mi abilita un continuous reality check perché è quello che si chiama design in the browser cioè gli effetti che vogliamo dare al nostro html css sono quelli realistici non quelli previsti se io vi creo un'aspettativa che stasera andremo a mangiare una carbonara fantastica e voi ve la state già se stasera andiamo a mangiare una pizza probabilmente sarete felici lo stesso però una parte di voi è già è ancora agganciata a quella carbonara è ancora desidera quella i visual delle agenzie di design molto spesso creano questo creano un imprinting che è difficile smontare e se è difficile smontare è difficile portare un cliente a accogliere quello che funziona rispetto a quello che vorrebbe andiamo più sul concreto perché ho parlato di living style guide ma non so se le conoscete o se avete mai visto una living style guide domanda qualcuno ha mai visto una living style guide o una style guide di un prodotto style guide di github di mailchimp o cose di ok grazie adesso spiego meglio che cosa sono quindi il tre sono gli ingredienti che compongono una living style guide il primo è una pattern library cioè è un insieme di componenti di piccolo livello tipo un bottone un 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 input un oppure anche di tipografia colori icone che servono per essere usati per comporre altri componenti scusate il gioco di parole quindi sono componenti semplici o composti se parliamo di codice html css javascript stiamo parlando di questa roba di questa acqua qua come dice qualcuno il suo fuoco è essere granulare il più granulare possibile cioè deve fornire consistenza ad ogni singolo elemento cioè quando sviluppo un componente lui atomicamente dovrebbe essere il più consistente possibile dove per consistenza intendo dire che se abbiamo una strategia di cross browsing debba degradare o migliorarsi secondo i nostri criteri se abbiamo una strategia responsive debba comportarsi secondo questi criteri quindi i titoli devono debbano degradare nel mobile ad un font size più basso per fare questa presentazione ho creato una mia style guide cioè mi sono creato una palette di colori font simboli margini spazi che abbiano lo scopo di essere il più consistenti possibili perché sebbene la diversità è un modo per attirare l'attenzione quindi se passo da uno sfondo a un altro vi serve per catturare un significato diverso per diciamo a riacquire la l'attenzione è importante essere il più consistenti possibili il secondo elemento che risponde una style guide è un prototipo cioè un artifatto rundimentale che ci darà una proiezione di quello che sarà il funzionamento finale quindi ok benissimo ho un insieme di ingredienti da quel lato adesso li metto prendo un menu una sidebar ci metto un bottone un form un footer intendevi dire questo quando hai detto vorrei un inserimento dati no preferivo quest'altro bene su questo inizio a iterare questo è un esempio di della style guide di salesforce dove ci mette una lista di elementi disponibili il search il full create la list view e ci fa vedere come insieme questi vengano a rappresentarsi questa non è l'applicazione salesforce funzionante ma ci sta facendo vedere come funziona il terzo elemento che corrisponde una style guide è un repository cioè è codice quindi asset visivi html css javascript immagini video svg font tutto quello che ci serve per dare il tono visivo il nostro sito e l'altra parte del repository è codice che costruisce codice cioè parliamo di grant gulp tool di build minificazione tutti quei tool di performance che ci permettono di fare quel lavoro noioso ma che ci serve per salvarci fegato e tempo il fuoco del repository è cercare di stare il più semplice possibile cioè da un lato deve essere il più granulare possibile ma di tenere la complessità e la semplicità al più basso complessità più bassa possibile semplicità più alta possibile una living style guide fondamentalmente un dizionario e la sua peculiarità è che deve parlare linguaggi differenti si dice che il codice documentato sia codice scritto male cioè se le vostre classi php ruby quelle che siano hanno bisogno di essere documentato c'è qualcosa che puzza vero un problema della living style guide è che sta parlando a persone con background differenti cioè parla ad un designer perché gli deve dare degli spunti per magari creare dei visual deve parlare ad uno sviluppatore perché gli deve dire quali componenti usare dove deve parlare ad un cliente che non ne sa nulla di questa roba ma che gli deve dire quali gli deve far vedere delle cose per dire lo intendevo più in questo modo in quest'altro ora per progettare le style guide quindi ok come si va da zero ad un ad un insieme di ingredienti che posso riutilizzare per fare poi una prototipazione ad alta fedeltà ci sono diversi workflow e ne ho individuati tre principali il primo è quello che si chiama questo è il naming che ho pensato io si chiama all in cioè su una linea del tempo esiste un momento ben definito dove si fanno le interfacce quindi png psd o quelli che sono quelli che volete si progetta la living style guide si fa un prototipo si monta il prodotto questo è dal punto di vista del cliente è una figata perché qui genero imprinting visivo su quello che sarà il mio sito benissimo è quello che intendevo cicli di validazione adesso è una questione di produzione i rischi sono molto sbilanciati sul team e i problemi qui saranno dei problemi di esecuzione cioè la prospettiva di un cliente o di una persona che ha detto sì è quello che voglio è la stessa di una carbonara quando gli andremo a presentare una pizza che magari funziona perché aveva fame lui però lui gli è rimasta la voglia di carbonara e le decisioni e la prospettiva di quella che è la relazione delle persone si basa fortemente su questo se lui ha visto quello sarà molto difficile smontare quell'imprinting visivo il secondo workflow è quello up front cioè viene smontata la parte dove si vengono creati dei visual e si passa direttamente a costruire una living style guide poi si costruisce un prototipo e poi si costruisce il prodotto questo qui può essere capitato magari se lavorate con agenzie di design esterni quindi se voi siete un'agenzia di sviluppo e avete un cliente da gestire è molto probabile che un'agenzia di design vi abbia fornito i file da montare e voi dovrete iniziare piano piano a costruire quel prodotto lì questo qui è già dal punto di vista del cliente è già un pochino più difficile perché ok quindi cosa facciamo adesso quando arriviamo qui iniziamo a vedere che cosa c'è da fare no? ok quindi vabbè ma quanto tempo quanti soldi come qua la prospettiva di un cliente è già molto più cioè si sta cagando in mano per usare un francesismo infine c'è quello dello small steps che è quello dove mi sono più praticato io che è praticamente dove non esiste una linea netta dove finisce la living style guide quindi ho preparato degli ingredienti e inizia la parte della prototipazione cioè dove li vado a mettere insieme ma vengono costruiti man mano che servono pessima situazione per il cliente perché è molto più difficile garantire una percezione di dove si arriverà e in quando si può fare ci sono tutte una serie di modi però la sua sensazione è molto più di essere senza rete ognuno ha dei pro e dei contro la prima quella dell'all in è facile da pianificare cioè in realtà è semplicistico non facile quanto tempo per fare il design quanto tempo per fare lo sviluppo quanto tempo per metterlo in produzione questo è l'approccio del risk management che vi ho indicato prima con alcuni clienti lavoro ancora così sia chiaro non è che il il problema è che è poco aderente alla realtà è un modello idealistico di pianificare un progetto e i rischi sono estremamente sbilanciati su chi deve fare le cose il secondo modello è già più buono dei lati positivi perché rimuove il visual imprinting i rischi iniziano a essere più distribuiti però è molto difficile ottenere feedback significativo dal cliente stiamo parlando di capire come il cliente voglia questo prodotto e quindi se io vado da lui con una living style guide fatta solo di ingredienti gli chiedo il bottone così andava bene potrà dire sì rosso bellino potreste dire quello ma è difficile che sia un feedback estremamente cioè un feedback valido nel momento in cui lo andremo a montare la terza è che è quella dove mi sono impraticato di più e questo è quello che chiamo l'in design cioè si progetta le cose che servono mi sono trovato a dover decodificare dei psd in pagine anche a montarle con codice funzionante e poi a un certo punto renderci conto che quella pagina lì in effetti non serviva però arrivato in fondo tutto quel lavoro era stato fatto questo mi piace perché fa emergere solo quello che serve la parte incontro è che è difficile pianificarlo e ci sono dei conflitti di leadership cioè cosa succede quando i decisori locali non sono veri decisori quindi bisogna decidere come fare un dettaglio ordine cosa succede se dietro al decisore c'è un vero decisore e quindi io itero facendo un'interfaccia del tipo ok ho fatto il dettaglio ordine era questo che volevi? sì 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 poi a un certo punto arriva l'interfaccia arriva al CEO che è il vero decisore e fa cambiare tutto quindi il decisore è un decisore fantoccio da un certo punto di vista questa è la parte più difficile perché bisogna capire il più velocemente possibile come dove sono i veri decisori e contemporaneamente bisogna far emergere i conflitti perché quando abbiamo stakeholder differenti è molto probabile che il loro interesse individuale sia più forte dell'interesse collettivo cioè non è detto che un direttore del marketing abbia interesse di performance sulla pagina perché lui dice io devo mandare più banner possibili contro magari un CTO che vuole fare la pagina più performante possibile bel dilemma più veloce o più marketing? e non è detto che loro siano disposti a mediare sui loro obiettivi individuali anche perché magari il direttore del marketing deve dimostrare che è competente e lo fa magari come? non cedendo le proprie idee ho provato a immaginare un suggerimento su quale metodo usare in quale contesto cercando di mettere sulle X la relazione con chi vi commissiona al lavoro che non è detto che sia il cliente può essere la vostra stessa azienda dalla competizione alla collaborazione mentre sulle ascisse la maturità del prodotto cioè qui abbiamo una start up che non sa se il mercato lo vuole quindi che non sappiamo ancora se voglia essere se si è accettata di là abbiamo la Coca Cola un brand consolidato e riconosciuto il mio suggerimento è quello di partire con il metodo Lean che nonostante sia il più rischioso sia quello che più facilmente viene accettato in quelle condizioni cioè dove il management non è disposto a scendere sui modelli di pianificazione quindi assorbitevi voi i rischi di quelli che sono i tempi e i costi di usare questo tipo di approccio man mano che la collaborazione sale potete iniziare a rimuovere l'imprinting visivo quindi i file di Photoshop e le altre robe per poi spostarvi su quello che è un approccio più Lean cioè lavoriamo insieme per il successo del prodotto quello che il messaggio che vorrei passarvi è che non esiste un workflow solo per costruire le style guide ma ne esistono differenti ognuno ha un proprio appeal nel dovuto contesto e non è dato solo dalla relazione col cliente ma anche dal successo del prodotto tecniche e tool per costruire living style guide l'ecosistema di front end viaggia ad una velocità pazzesca cioè mi sono approcciato da pochi anni ma devo dire che è uno dei contesti dove richiede una diversità di conoscenze maggiori perché andiamo dalle performance su come il browser interpreta i byte che gli mandiamo e quali sono i tempi e i workflow secondo cui ci mette un secondo contro due secondi un mezzo secondo o dieci secondi a essere renderizzato alle tecniche di responsive design graceful degradation o progressive enhancement o possono coesistere una carbonara sulla pizza sarebbe una gran idea strumenti di build qui siamo nel territorio continuous integration, continuous deployment sono argomenti che hanno una letteratura anche grossa nei linguaggi server side ma nel front end è tutta come si dice terra da esplorare ancora cioè è come in America la corsa all'oro la gente che metteva la bandiera sul terreno e un'altra cosa per esempio il CSS una delle proprietà di questo linguaggio è che è uno dei linguaggi che sta più con un piede nello sviluppo codice e nell'altro nel design perché stiamo dicendo come deve essere disegnato è un linguaggio che viene sottovalutato enormemente perché non è imperativo cioè è dichiarativo devo suggerire delle cose e poi in qualche modo verranno gestite ho cercato in tutta questa ecosistema in poco tempo ho cercato di estrarre quelli che sono i miei tips CSS sto andando bene col tempo dopo ho degli esempi di style guide se vogliamo perché esistono dei tool che già da zero vi costruiscono una style guide oppure ve ne potete costruire una propria vostra tip CSS il più veloci possibili scusate chi fa CSS giusto per capire è mosso capil chi ha usato un important nell'ultimo mese ok insomma non vi preoccupate cioè va tutto bene è dopo il quinto important nella stessa cosa che stiamo a cagarci in mano dunque il primo tip che vi do è invece che focalizzarvi su fare la cosa giusta focalizzatevi su fare cose che siano cambiabili grazie mille questo cosa significa? che se usate dei precompilatori che possono essere SAS STILUS LIBSAS LES quello che sia createvi un sistema che vi permetta di spostare la decisione il più lontano possibile cosa significa? c'è un forte dibattito se le classi CSS debbano essere semantiche o presentazionali cioè è meglio una classe punto article o una classe punto red punto large punto ci sono scuole di pensiero che dicono no dovrebbe essere il CSS presentazione quindi la classe è quella che mi identifica il tipo di oggetto quindi article mentre nel CSS devo dire come deve essere rappresentato perché se no mi trovo un codice HTML dove devo appiccicarci punto red punto large punto border e cose di questo tipo io per esempio se sono in fase di discovery mi creo una serie di helper che mi debbano mi permettano di prototipare un'interfaccia a basso costo cioè consegno codice sporco non è pronto non è pulito è pieno di classi che sicuramente vanno rifattorizzate ma sono in fase di discovery e quando ho il check che ho capito che il cane di cui parlavamo era lo stesso allora vado a fare refactoring e quindi sposto attraverso i mixin dalle classi presentazionali alle classi semantiche quindi se un nodo aveva 5 classi presentazionali faccio un cambio con una classe presentazionale e tutti i mixin scusate semantica e tutti i mixin presentazionali gli aggiungo a quel nodo concretamente article title gli sposto con font primary color red font size il secondo tip che vi do è quello di iniziate a pensare alle pagine come un ecosistema di componenti cioè sicuramente lo fate quando avete di fronte se avete mai convertito da psd a png a da psd a css e sento le vostre cicatrici in questo momento avrete fatto quel lavoro che si chiama pattern recognition che dice ok vedo un bottone rosso di qua ne vedo un altro di qua probabilmente è lo stesso nodo e quindi vado a creare una classe generica per quei due elementi benissimo portiamolo ad un livello superiore questo modo di pensare cioè invece che pensare a come presentare una pagina e cercare di essere il più aderente possibile a quel psd partiamo da ragionare per componenti e poi creare le pagine cambia completamente l'approccio sia al design al feedback e al css perché i componenti verranno progettati per essere individualmente sostenibili poi il prototipo avrà lo scopo di tenerli consistenti tra di loro terzo impariamo fare refactoring css fare refactoring è una disciplina importantissima soprattutto in altri codici è estremamente matura come il php ruby javascript sappiamo come farlo ma soprattutto abbiamo gli strumenti maturi fare refactoring css si sputa sangue perché gli strumenti sono pochi imparare per esempio quali sono i tool di visual regression quindi se cambio la presentazione di un nodo che mi informa che nelle varie parti è cambiato oppure deferral commitment è quello che dicevo prima di posticipare la decisione tra una classe semantica e presentazionale però imparare a fare refactoring piuttosto che dire è meglio rifarlo tutto questo css ci sono delle fasi intermedie e noi siamo quelli i professionisti che dovremmo imparare a fare queste cose il più possibile scusate sono stanco e siete stati anche voi chiedo scusa spendete almeno il 10% del vostro tempo sui vostri tool perché vi aiuteranno al di là di essere professionisti vi aiuteranno a essere più efficienti e più efficaci ad uno che taglia gli alberi non gli puoi dire lascia perdere la lama dell'azzetta bada a tagliarne di più perché se quell'azzetta non taglia lui dovrà fare solo una gran fatica lasciate fare al computer il lavoro del computer e mettete il vostro effort nel lavoro per cui il nostro cervello è nato che è quello di approcciare problemi complessi e renderli semplici calibrare la qualità è la cosa su cui io mi sto sto facendo più fatica c'è un talk di Dario Fo lui è un attore e un pittore bellissimo che spiega che arrivato all'apice della carriera dell'essere un pittore quindi cioè o meno lui si ripteneva bravissimo tant'è che i suoi quadri li compravano quindi proprio non era uno stupido però si è innamorato del teatro ed è passato dall'essere maestro in un'arte ad essere apprendista quindi a dover imparare a non sapere le cose in un'altra questi shift non sono semplici ma a livello umano calibrare la qualità significa che se parliamo avete mai visto Dragon Ball? avete presente quando Goku sconfigge un mostro acquisisce nuovi poteri a un certo punto arriva un mostro più forte allora mi alleno e vado in quello dopo se a un certo punto alla quinta stagione fosse arrivato il mostro del primo livello questo lo so già fare non ci gioco cioè noi che impariamo tecniche metodi approcci nuovi è molto difficile fare downgrade fare upgrade grazie è facilissimo ma fare downgrade ci costa fatica ma saper fare CSS sporco saper fare codice sporco saper fare un passo indietro è una cosa che dobbiamo imparare perché il progetto non è che non sempre richiede la cosa più cool o la cosa che è più efficiente ma noi individualmente fare dei passi indietro qui è veramente difficile mi piaceva il talk di Dario Fo che insomma era le stesse cicatrici finito stiamo arrivando in fondo come cominciare la sperimentazione cioè da domani ok voglio provare a fare una living style guide dove comincio dove vado cosa faccio punto uno suggerimento iniziate a guardare come altri professionisti del CSS fanno architettura CSS quindi ce ne sono trilioni di persone Hugo Girardel Harry Roberts cioè gente che mette i loro framework o i loro lavori in pubblico su GitHub quindi il primo passo è vedere come altri fanno architettura il secondo passo è fatela cioè che sia il vostro sito personale o il vostro sito aziendale provate a fare non so un hackathon di un giorno e vi costruite un repository separato dove iniziate a fare i vostri componenti e provate a rifare il vostro sito personale o il vostro sito aziendale il terzo passaggio è ragionate sulla vostra base di clienti qualora siate un'azienda di servizi e cercate di capire quali dei vostri clienti possono meritare questo approccio perché questo approccio è un investimento è un costo cioè nel senso è è tempo dedicato a costruire qualcosa che poi mi tornerà utile quindi non tutti è detto che sia non è detto che sia dato per tutti per concludere credo che CSS sia uno dei linguaggi più sottovalutati dal punto di vista soprattutto ho visto dei talk su javascript linguaggi del futuro e tutto quanto però il web è sicuramente un linguaggio che non possiamo mettere per fortuna grazie alla lotta tra Apple e Flash Flash è andato un po' a morire però è sicuramente uno dei linguaggi più sottovalutati ma secondo me che richiede estrema professionalità promo time velocemente se volete faremo un corso sulla frontend automation a Bologna a ottobre oppure se volete fare una style guide per un vostro cliente ci siamo noi ma yeah e basta grazie questo è lo spazio delle domande o dell'andare all'aperitivo scegliete voi io considera che le realtà con cui le utilizzate sono state o per aziende di prodotto cioè che hanno il team di produzione interno ma non hanno il team di design e quindi dall'esterno richiedevano questa skill oppure per aziende di sviluppo che lavorano per i loro clienti le style guide sostanzialmente sono in quel caso sono un repository di asset principalmente quindi la compilazione è principalmente su carico nostro quello che facevano queste aziende era prendere gli asset fondamentalmente nel loro repository git aggiungevano tra i vari vendor anche la nostra style guide e nella loro build spostavano gli asset da una folder a un'altra gli asset già minificati compilati comprese noi abbiamo rispondato su cui ci siamo fermati però abbiamo diversi ambienti la style guide viene generata da un ambiente che è un'epoca di produzione perché manubile il codice di produzione e la gestione di altre che è abbastanza complesso in quel caso è altro ma se una style guide non viene usata c'è un problema in quella style guide nel senso che scusa se a un certo punto il prodotto inizia a divergere rispetto alla style guide quindi il CSS viene ricompilato di qua o viene aggiunto dei cerotti o a un certo punto vengono c'è quando inizia questa deriva rispetto a un dizionario c'è un problema in quel dizionario sicuramente cioè non è chiaro è costoso manutenerlo io per la mia esperienza non uso style guide generati dal CSS per esempio c'è una tecnica è quella del CSS di mettere del codice in cima per far sì che il markdown il markup venga generato automaticamente sia esplicativa sicuramente una style guide deve essere documentata ma uno dei punti di debolezza è per chi viene documentata cioè una style guide from dev to dev per intenderci non sarà utilizzata probabilmente da un team di design o da persone che devono fare delle interfacce e quando questo succede vengono fatte delle interfacce che divergono troppo dalla style guide quindi secondo me è un problema di come viene documentata quella style guide e sugli generatori mi trovo in difficoltà perché parlano un solo linguaggio cioè parlano solo verso o i frontendisti o lo sviluppo puro quindi è il motivo principale per cui non le uso sì quello che ho fatto io concretamente è stato vabbè a parte lo studio dell'object orientale di CSS SMAC BAM e tutte quelle cose là ho iniziato a crearmi un mio repository di grant con i vari tool che mi servivano questo repository quindi è utilizzato sia per generare la pattern library sia per generare un prototipo che quindi fa vedere come insieme funzionano il team di sviluppo che stanno di fianco a noi quindi quelli che devono fare il codice funzionante cioè ok benissimo bella la teoria andiamo a farla questo prodotto sostanzialmente usano il prototipo e la pattern library la pattern library per crearsi pagine nuove il prototipo per dire ok il non ti passo più un png ma ti passo html funzionante ad oggi quello che faccio è aggiungere feature e forcare il repository quando qualcosa è di buono lo rimetto nel repository principale e quello sta crescendo invece tu hai parlato della differenza tra per esempio una classica CSS semantica oppure di risulta scrittiva invece calcolare e usare html per definire nella c'è c'è tipo c'è tipo nel CSS puoi dire l'input type text dagli questa formattazione oppure puoi dire la classe punto input meno text e puoi attribuirgli la classe sicuramente allora io ad oggi adotto molto BEM e cerco di fare componenti che abbiano quindi una classe che hanno un suo namespace e i suoi figli tipo punto article è un blocco poi c'è article title article text e così via discorrendo ha delle limitazioni BEM innanzitutto inizia a essere costoso perché lato codice inizia a trovarti delle ma usa un h1 perché devo usare tendo ad evitare usare i nodi direttamente perché se voglio formattarli devo usare il cascading cioè punto cioè non so nav h1 quello nel momento in cui lavoro sul cascading sono vincolato quel problema che dicevo all'inizio di nodi che quando devo spostare un h1 da una parte a un'altra ho perso la formattazione concretamente quello che succede è che se tu in una pagina vedi un titolo e dici bello questo lo voglio di là quello che fai è prendi il codice lo snippet lo sposti in un'altra pagina e poi dici ma è diverso ma per quale motivo quindi il motivo per cui tendo a limitare il più possibile quella tecnica è perché mi ingessa perché devo usare il cascading però ci sono delle eccezioni come per esempio i cms se io devo progettare un blog post che è generato da wordpress non posso fare che lo strong debba avere una classe per essere rappresentato perché non è detto che l'editor tini mce del cliente abbia in automatico la funzione di mettere le classi quindi in quel caso uso un namespace che mi dice questo viene da cms quindi è generato da un utente non ho il controllo su quella parte la consapevolezza di questo approccio è che il so che in quel blocco non finiranno altri blocchi perché il limite è che se tu dici punto article spazio strong stai dicendo tutti gli elementi strong dentro article hanno questo approccio ma se quel blocco è un blocco non foglia ma è un blocco composto che all'interno ci vanno altri se io metterò uno strong assumerà quello stile lì quindi va calibrato perché il cascading e la specificità del css sono bastardi perché ho parlato di important ma arriva quel momento dove devi creare dei selettori talmente lunghi perché hai bisogno di bucare quel cavolo di nodo perché non riesci a cambiare il colore e quello è perché è stato usato un algoritmo di semplici di scusa di cascading troppo aggressivo quindi cerco se posso di usare il più possibile le classi quindi punto button o punto article diverso è per esempio se embeddo framework terze parti se embeddo foundation o bootstrap per esempio già lì devo iniziare a usare delle tecniche di combinazione grazie andiamo grazie a tutti grazie a tutti